L'AMAP è pronta a varare nuove misure di risparmio dell'acqua visto il perdurante decremento dell'acqua prelevabile dalle fonti di approvvigionamento destinata al territorio della provincia di Palermo. In linea con lo stato di calamità naturale da siccità dichiarato la settimana scorsa al governo Schifani, il fenomeno della siccità e delle quasi inesistenti pioggi stagionali sta richiedendo la definizione di un modello di gestione di tipo emergenziale con conseguente necessità di ottimizzare sempre di più l'utilizzo delle risorse idriche al momento disponibili, scrive l'AMAP ai sindici dei comuni il cui servizio idrico è gestito dall'azienda. In relazione all'attuale risorsa disponibile si comunica di aver avviato un piano di monitoraggio del servizio idrico e così nei prossimi giorni si procederà alla chiusura delle fontanelle comunali alimentate dalla rete idrica gestita da AMAP. E così nei prossimi giorni si procederà alla chiusura delle fontanelle comunali alimentate dalla rete idrica gestita da AMAP e in particolare di quelle che ad oggi sono ancora prive di contatore di misura dei relativi consumi.